Voglio chiedervi, sempre partendo da Giuseppe, i 10 giocatori francesi che hanno segnato più gol in Serie A. Davide Treseguet. Beh certo, senza nemmeno pensarci. Ed è giusto, ed è ovviamente il primo di questa classifica, l'unico ad aver si dato oltre 100 gol. Davide Treseguet, 123 gol in Serie A. Papeen. Jean-Pierre Papeen. Due stagioni soltanto al Milan, basteranno per entrare in questa top 10? No, non basta, non c'è Papeen. Primo rigore di Federico Lombo. Primo rigore subito. Sbagliato. Per pareggiare, Giuseppe. Cyril Terò. Cyril Terò. Il tuo secondo rigore ti giochi subito Terò. E fai bene, perché al terzo posto c'è Cyril Terò con 66 gol in Serie A tra Udinese e Chievo e anche Fiorentina. Negli ultimi anni della carriera in Italia. Giorcaef. Yuri Giorcaef. Scegli un interista. E la scelta è giusta. All'ottavo posto, 30 gol in Serie A per Yuri Giorcaef. Terzo rigore per Giuseppe. Pogba. Risponde con lo Juventino, è già derby d'Italia. Paul Pogba esiste al nono posto, 28 gol. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Naturalmente. Bien sûr, Giroud al sesto posto, 36 gol. Ho detto bene, Bart, tu sei l'esperto di Francia in questo posto. Assolutamente. Bien sûr, è giusto. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Sesto posto per Giroud, 36 gol in Serie A. Giuseppe, quarto rigore per te. Provo Zidane. Zinedine Zidane. Nonostante ben 5 stagioni in Italia, non rientra in questa top 10. Federico risponde con? Teo Hernandez, ma... Teo Hernandez, non sei convinto però. E invece è giusto, è il decimo giocatore, 27 gol, Teo Hernandez. Platini. Eh, come mai te l'ho chiuso per quinto. Te l'ho chiuso in mente adesso. Le Roi, Michel Platini. Perché i migliori rigoristi c'è chi li tiene a lungo. C'è, ma qui è quinto rigorista. A volte funziona, a volte no però. Platini, 68 gol in Serie A. Mancano tre. Federico, sono tre nomi non banali, però non facilissimi sinceramente. Cocca il timer. Non ce l'ho. Non ce l'hai. Rien ne va plus, come si direbbe, in certi posti. Le jeu sont fait. Le jeu sont fait. Completiamo questa classifica. Al settimo posto, Jordan Verretout. Ah, bravo. Con 33 gol in Serie A tra Fiorentina e Roma. Al quinto posto, il giocatore più anziano di questa classifica, Nestor Comben, con Milan e Torino, anche Juventus in realtà. Anni 60, campione d'Europa, campione... No, campione del mondo in realtà, con il Milan. Nel 69, al quarto posto, un giocatore che ha segnato domenica, anzi, lunedì, il suo 51esimo gol in Serie A. Grégoire Defraël. Pensate un po'. Del Sassuolo, poi Cesena, Roma, Sampdoria, eccetera. 51 gol.